Anticipazioni tempesta d'amore. Giovedì, 21 gennaio 2021. Stefan, incontra Amelie, visibilmente triste, e dopo una passeggiata insieme, le chiede, in modo amichevole, di confidargli cosa c'è che non va. La ragazza, riferisce a malincuore, di aver sentito Tim, e Franzi, parlare intimamente. Ammette che ciò, l'ha resa parecchio gelosa, e delusa. Non ha dubbi, sospetta che tra i due, sia in corso una relazione. Stefan, è letteralmente sotto shock. Kristoff, mette in guardia Carl, dalle macchinazioni della sua ex moglie. Aggiunge che è molto pericolosa, e che potrebbe fargli del male. Quando Arian, apprende che i due si sono visti, non perde tempo. Ed organizza un incontro con il Salfield, allo scopo di spaventarlo, e terrorizzarlo. Paul, e Michelle, accettano di aiutare Lucy, a distribuire i volantini. Dopo un po', la Erlinger, riceve una notizia bruttissima. Occorreva un permesso, per effettuare a norma di legge, la campagna di volantinaggio. E adesso, lei, e Bella, devono pagare una multa molto salata. Alphonse, svela a Hildegard, una grande novità. Vanessa, flirta con un collega. Lasson Bichler, vuole saperne di più, ed Alphonse, aggiunge che è stato Werner, a comunicarglielo. Preoccupata, Hildegard, decide di recarsi subito dalla nipote, che conferma tutto. Ha cominciato una relazione con Robert, ma non si tratta di qualcosa di serio, e di ufficiale. Lasson Bichler, consiglia alla ragazza, di lasciar perdere subito. Perché potrebbe soffrire. E non poco. Grazie a tutti.